Sono quasi 3 milioni di euro i fondi stanziati dalla passata amministrazione provinciale di Pescara e messi in opera dall'attuale amministrazione per la realizzazione delle palestre dei licei della provincia. Un milione e mezzo di euro riguarderanno i lavori per la costruzione della palestra del liceo scientifico Galilei di Pescara sita in via Vespucci e comprenderà inoltre spogliatoi, bagni e medicheria. Un milione e 400 mila euro invece saranno a disposizione per la realizzazione della nuova palestra del Dascanio di Monte Silvano e sarà concepita secondo moderne tecniche di fruibilità. Le palestre sono due palestre per due scuole importanti, il Dascanio e il Galilei come ha detto giustamente lei sono due palestre innovative, due palestre importanti anche per le due città, per la città di Pescara e per la città di Monte Silvano e soprattutto per le scuole che oggi non hanno gli spazi se non all'aperto dove poter espletare educazione fisica per i ragazzi durante il periodo invernale. Sono due palestre importanti, molto molto belle e innovative. All'incirca un anno le lavorazioni per tutte e due le palestre. Sono fondi che non è che abbiamo reperiti noi e con la nuova governance regionale questi fondi si sono sbloccati rimodulando le convenzioni. Qualcuno sostiene e rivendica alcune considerazioni sui social. Io voglio dire semplicemente che noi siamo operativi, gli altri non sono stati capaci di concretizzare questi fondi.